Avete passato un buon Natale? Cosa avete trovato sotto l'albero? Io ho trovato questo, un graditissimo regalo. Il libro che racconta il restauro del dipinto di Raffaello che ritrae Papa Lerone X, un dipinto conservato alla Galleria Palatina. Ah, questi sono tatuaggi che mi ha fatto la mia figliola con un aggeggio che gli hanno regalato ieri, per inciso. E' un libro scritto dal direttore delle Valle degli Uffizi insieme a Marco Ciatti, al tempo direttore dell'Opificio delle Pietre Dure. Un libro sta interessante, ho iniziato a sfogliarlo ma ancora non l'ho letto tutto, gli ho dato solo una sbricciatina, giusto ieri è appena arrivato. E' molto interessante, ci sono particolari di questo dipinto che non conoscevo, ci sono le riflettografie, tutti gli studi che sono stati fatti prima di eseguire il restauro. Ecco, quindi indagini diagnostiche, guardate che capolavoro queste opere miniate, spettacolari. Qui sono alcuni danneggiamenti sulla tela, che poi sono stati recuperati, come sapete, con il tratteggio acquerello. E insomma, ora lo leggo, poi vi dico cosa ne penso. Guardate che meraviglia anche la copertina, con il faccione di Papa Lerone X. E' il Papa che mi obbligò ad andare sulle cave di pertinenza allora di Pietrasante e adesso di Saravezza, sulle cave dell'Altissimo, Trambiserra, delle cave della Cappella, della Costa. Eccolo qua, questo librone. Lo leggo, eh? Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua.